Registrando 10, acqua, 5, 20, 4 Perciò si guarda però la portata è semplice Resta 3, lunga, lunga Quanta Sì, sono 5, 5, 5, 5, 5, 5 Questa 2 Quanta, attenzione, inspezione destra, strechissima Strechissima Resta 6, 50 Spesivo, spesivo. 50 Resta 2 Resta 5 Pesivo, in piena, si pese 2 Per il오, interno Sinistro 5, lunga Resta 2 al blok testa 3 cunha levo testa 3 cunha sinistra 4 per testa 3 per testa 5 50 sinistra 6 100 testa 2 sani per testa 6 per testa 6 per testa 6 per testa 6 per testa 4 100 50 Occhiepalla 50 50 50 50 60 50 50 50 50 50 60 60 50 50 50 4 per sinistra 4 e 25 20 20 sinistra 300 200 attenzione al destro 70 sinistra 3 70 destra 4 200 500 50 100 100 500 300 300 300 300 300 300 300 0 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 360 200 destra 6, 200 destra 6, 200 destra 5, interprima, scelto e arresto 70 destra 6, 70 destra 4 destra 4, 50 interna poco destra 3 destra 4, 1, 1, per destra 6, 1, per destra 5, internazione del cartello appena la destra e la sinistra è di più 200 200 destri alla casa non si trova molto 70 persone a destra 100 100 100 attenzione destra 2 destra 0 sinistra 0 30 sinistri destra 3 apre 3 destra 6 attenzione destra 2 30 sinistra 2 agli asporta diventa 6 agli asporta diventa 6 supremo destra 2 squiry 75 In attenzione adesso è sporca A livello che è sporca Aiccetto Adesso è 5 Adesso è 5 Adesso è 5 Adesso è 5 Adesso è 6 Adesso è 5 Adesso è 5 Adesso è 6 Adesso è 6 Adesso è 5 Ora Adesso è 5 Adesso è 5 50 50 50 50 50 150 150 52 50 50 50 250 60 50 50 70 100 30 al palo destra 3 per sinistra 5 al palo destra 6 attenzione 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 il palo destra 6 attenzione 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 a 150 10-5 10-5 10-5 10-5 10-5 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 23 16